Cari ascoltatori benvenuti a Storia Quattroruote, il nuovo podcast di piedi pesanti in cui vi parlerò di auto, moto ed eventi sportivi che forse abbiamo dimenticato troppo presto. Io sono Ermanno Ceccherini e oltre a ringraziarvi per aver scelto questo podcast vi invito a visitare i nostri canali su YouTube e Instagram. Allacciate le cinture, scaldate i motori e partite alla volta del primo episodio.